Ciao a tutti amici del verde, oggi andiamo a parlare del mal dell'esca, è una delle patologie fungine che attacca il legno della vite, molto molto importante, andiamo subito al video a vedere come si presenta la malattia sulle foglie e cosa possiamo fare. Siamo di fronte ad una pianta colpita dal mal dell'esca, lo vediamo subito il mal dell'esca si riconosce perché la foglia rimane così, tigrata in questo modo. Che cos'è? E' una patologia fungina che va a bloccare il circolo linfatico della pianta, in genere penetra all'interno dei tagli che noi facciamo, qui il patogeno penetra facilmente all'interno della pianta, inizia a rovinare il circolo linfatico, inizia a rovinare la struttura della pianta e c'è la debilitazione totale della pianta. A volte può essere anche, diciamo, delle barbatelle infette, ma generalmente si presenta su piante che iniziano ad avere una certa età. Abbiamo inizialmente una pianta bella verde, ad un certo punto in estate vedremo che si riduce in questo stato qua. Allora che cosa succede? Inizialmente le foglie inizieranno a colorarsi di questo giallino, diventeranno clorotiche, poi pian piano queste piccole macchioline confluiscono tra di loro e la foglia si presenta in questo stato qua, la parte gialla si unisce e la foglia secca, questo è proprio, prendo una foglia qua, che è molto di esempio della patologia, eccola qua, le nervature centrali rimangono ancora verdi, circola ancora un po' di linfa, ma il lembo di foglia tra una nervatura e l'altra diventa necrotica secca. Anche chiaramente i giovani tralci iniziano ad avere delle forti depressioni, l'uva non cresce più, non riesce a maturare bene, addirittura appassisce, perché chiaramente il circolo linfatico non c'è più. Questo patogeno penetra soprattutto in quei tagli che sono stati fatti molto grandi, non abbiamo fatti il rispetto del cono di essiccamento della pianta, quindi è stato effettuato troppo vicino, il cono secca va all'interno, entra anche il patogeno, entra all'interno della struttura principale della nostra pianta, come stiamo vedendo in questa situazione qua, quindi la raccomandazione è sempre andare a rispettare i tagli sulla vite. Lo ripeto, uno che è il principale, noi quando andiamo a potare in inverno un tralcio, lo dobbiamo sempre tagliare rispetto al tronco principale di quella distanza dal tronco, almeno quanto il diametro del tronchetto. Faccio l'esempio, diciamo che questo è due centimetri, io dovrò tagliare rispetto al filo del tronco principale questo ramo di almeno due centimetri, quindi lo taglierò qua, ok? Cosa possiamo fare? Io consiglio subito di andare ad eliminare la pianta, portarla via, perché questo patogeno fungino potrebbe poi andare ad infestare le altre piante, quando? Quando noi siamo al momento della potatura invernale, quindi saremo che ne so, a gennaio, noi a gennaio questa pianta non sappiamo se era malata o no, perché è tutta spoglia e spoglia come le altre. Allora se noi andiamo a potare, smuoviamo questo patogeno e può andare nei tagli dell'altra pianta, quindi quello che consiglio io è prendere, eliminare la pianta e mettere una nuova pianta. Per piante invece che ci tenete molto, che sono piante ornamentali veramente grandi, dobbiamo andare a fare la slupatura, che significa la slupatura? Andare a trovare all'interno di questa vite dove è il legno cariato. Come si fa? Si va a cercare i punti di intersezione, uno potrebbe essere questo, ma io mi accorgo che il punto principale è questo qua, quindi che devo fare? Devo andare a tagliare, a scavare questa parte di legno qua, trovare tutta quanta la parte morta oramai, che è un legno come stiamo vedendo qua, se così ma abbastanza soffice, abbastanza poroso, lo dovrò andare ad eliminare tutto quanto, cercherò di fare questa pulizia, se chiaramente è possibile, e poi dovrò andare spennellare una soluzione con acqua e rame, 5 per cento di rame, quindi 50 grammi in un litro di acqua, faccio questa soluzione liquida e ci spennello tutta quanta la parte trattata. Con questa operazione, se chiaramente presa in tempo, non in una situazione del genere, possiamo anche salvare la pianta e comunque provarci. Chiudo qui ragazzi anche questo video, un bel mi piace se vi piace, gli ultimi sei secondi sempre dedicati ad altri link interessanti, metterò la potatura verde, la potatura al bruno di produzione, insomma sempre cosette carine. Un abbraccio a tutti e un saluto, ciao da Pier Giorgio.